Viste le lettere a Babbo Natale? Io di solito le scrivo le lettere a Babbo Natale, le scrivevo, adesso le scrivo per i miei cugini più piccoli o spero un giorno per i miei figli. E cosa c'è nella lista per Babbo Natale quest'anno? Ci sono delle misure importantissime, c'è una manovra da 30 miliardi sulle imprese, per esempio per i professionisti fino a 65 mila euro teniamo il 15% di tassazione, interveniamo su una serie di semplificazioni e poi l'IRES al 15% per chi investe e assume, spero che sia un buon inizio, poi gli effetti faranno capire la bontà di questa manovra perché ci sono così tante informazioni che aspettiamo la prova dei fatti, io chiedo di misurare questa manovra nei primi mesi dell'anno prossimo perché adesso ci sono così tante informazioni che è anche complicato riuscire a elencare tutte le cose importanti che ci sono all'interno di questo provvedimento.